Venezia l'abbiamo visto e l'abbiamo viste tutte Tra l'altro ma queste l'abbiamo viste tutte Quindi o ci vediamo l'FA Cup o ci vediamo i gol Ci vediamo l'FA Cup Ve lo dico, non l'ho vista nemmeno io Neanche io, però è così giusto Perfetto, sarà una scopertona 5 minuti di highlights giganteschi Un po' tantino, però giusto per farvi vedere Quanto la cornice di pubblico Esatto, lo stadio durante la finale di FA Cup Primavera Poi vabbè, ovviamente in le occasioni di queste squadre Le regalano Esatto, sono le squadre stesse a riempire i... Però si gioca ad oltre a Ford pure Esatto, esatto Una partita sicuramente sentita E chissà se da qua, da queste due squadre No, non uscirà un talento Se ne parla, prossimi obiettivi di mercato Un nome già c'è che è Garnaccio Tale Garnaccio, argentino Del Manchester United Quel ragazzo a cui era uscita la notizia A cui Ronaldo ha regalato un pallone di una sua tripletta Ronaldo che conosciamo tutti anche per le sue manie di protagonismo E egocentrismo E egocentrismo Vederlo regalare un pallone di una sua tripletta A un ragazzino È stata una bella... Ce ne avesse pochi No, esatto, esatto Insomma, è una generosità abbastanza semplice No, sì, ma ne ha tanti da dieci anni E non l'ho visto sinceramente regalare altri palloni A, non lo so, a un ragazzo della Juve A un ragazzo del Real Madrid Questo Garnaccio ha anche esordito con il Manchester United Non avevamo visto ma c'era un video della famiglia in tribuna Lacrimante da ogni poro corporeo Per il debutto del figlio Di cui si parla molto molto bene Ha fatto doppietta tra l'altro E speriamo che sia uno di questi gol Il primo gol non era il suo Ma era comunque un bel gol Un discreto gol, sì Ma il portiere ce ne ha messo del suo Sì, sì, è quasi svenuto Dovrebbe essere sul rigore il primo gol di Garnaccio Perché ho visto solo il tabellino Dovrebbe essere sul rigore Ce lo schippiamo perché 5 minuti di youth league No, no, sì, sì Potrebbe anche essere troppo per chi ci segue Vediamoci a questo punto Questo è il buon Garnaccio Aleandro se non sbaglio Lui che poi è stato un po' criticato Anche dagli argentini Perché dopo la consegna al Pano di Ronaldo Fa il post Instagram e dice Grazie con l'immagine della capra Got, eccetera Da argentino gli dicono Sì, ok, ma non sei ancora stato convocato In nazionale Non è ancora giocato con Messi Per quello lo dici Lui che poi è stato convocato qualche giorno dopo Qua il rigore è così? Gratis Sì, perché era poriare Vi vogliamo dare un rigore Dovrebbe esultare come Cristiano Sì, infatti, eccolo qui Fantasia Inventa della tua Che il portiere si buttava Che il portiere si buttava a destra Si vedeva lontano chilometri Guardiamo il corpo del portiere Guarda com'è Si vedeva troppo Che si sarebbe buttato da quella parte E poi assolutamente ci vediamo Pure il secondo gol È finita la partita Dovrebbe essere questo Lui è l'undici Sterza Risterza Bello Bello Un bel gol E' da Cantulazio Via Roma Vabbè Questo Per farvi vedere anche un po' di Di calcio che non guarda nessuno Youth League